Cosa farai tra 30 anni? Io non saprei rispondere a questa domanda. Molte aziende tra le più grandi al mondo invece e le loro banche sono sicurissime. Nel 2050 saremo tutti a missioni zero e la lista dei sicurissimi cresce ogni giorno. Bene! Poi però legge un sondaggio Pricewater. Australia minaccia alla crescita, secondo i CEO di tutto il mondo. Il clima è al nono posto e più di un quarto dei dirigenti intervistati non è minimamente preoccupato da riscaldamento globale. Ti credo, dice il direttore di Rainforest Action Network. Tra 30 anni sono tutti in pensione o morti. E in effetti la sicurezza sui missioni zero di questi tempi si accompagna alla stitichezza su piani e dettagli per decarbonizzare. Tocca ai grandi investitori, dice il Financial Times. Chiedessero impegni misurabili, rendicontazioni annuali, premi ai manager virtuosi. Non possiamo permettere all'azienda di cavarsela facendo poco o niente fino a 2049 per gli obiettivi che si sono dati al 2050, ha detto Bob Eccles della Business School di Oxford. Giusto. Quindi non importa se da investitori, consumatori o comunicatori, ma stiamo in campana pure noi e questo è un minuto.